Il tema del rinnovo delle concessioni autostradali sarà il tema caldo dell'avvio dell'attività istituzionale a settembre. Sì, oggi per fortuna abbiamo avuto anche un incontro molto interessante con l'assessore dei trasporti della regione Piemonte appena eletto, il quale è tornato dal ministero, con delle novità, diciamo importanti, piccole novità, ma che possono riaprire dei percorsi che noi abbiamo già lanciato come città metropolitana. Quindi è interessante pensare che ci possono essere anche ora sviluppi per una potenziale gestione in house tramite partecipate che magari non siano solo della città metropolitana ma anche di regione Piemonte e altre province, anche se è una modalità complicata, però sicuramente quello che capiterà a settembre è una riapertura di un tavolo con obiettivi sempre più precisi per andare nel merito e riuscire a risolvere dei problemi che la città metropolitana sicuramente avrà, che sarà la perdita delle partecipazioni nella società attiva e la gestione con una diversa modalità dei pedaggiamenti e della gestione stradale metropolitana.